Ben a tutti ragazzi qua Markius e oggi siamo qui su Fortnite per vedere un incarico epico della settimana nuova della stagione 5 di Fortnite questo incarico chiamato trova un bunker nascosto ora ragazzi vi farò vedere esattamente dove andare nella mappa, come portare a termine questa missione e nient'altro ora andiamo in partita eccoci qua ragazzi siamo in partita dovete andare praticamente esattamente in questo punto della mappa esattamente qui ok e dove troverete una casetta con sotto un bunker nascosto ovviamente non dovete fare nient'altro che andarci vicino e porterete a termine questa missione della settimana 9 ovviamente ragazzi ci sono 3 punti dove potete trovare questi bunker però io vi faccio vedere il metodo più semplice che sarebbe andare in questa isola dove troverete una casetta e sotto troverete il bunker ecco qua ragazzi praticamente dobbiamo andare vicino a questa casetta questa qui, adesso ve la pingo, eccola qua questa casetta e sotto troverete semplicemente un prima o qualche cosa da distruggere per esempio vedete queste lastre di legno queste qui dovete distruggerle quindi le spacchiamo aprite anche qui quest'altro muro e voilà, troverete questo bunker ovviamente io la missione già l'ho completata però a voi vi darà i 20.000 XP e non dovete fare nient'altro che andare vicino a questo bunker e scoprirlo bene ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale e bella